Ieri Kruger ha detto che è venuto qui almeno quattro volte e ritiene che sia l'esperienza più raffinata e sublime nel contesto delle riunioni economiche al mondo. Io sono stato in India, Hong Kong e in Cina e ho partecipato a incontri simili e concordo con la sua valutazione, lo dico con un po' di cautela perché ovviamente una buona esperienza implica ovviamente la gente, la buona cucina e le montagne. C'è qualcosa molto interessante nella cultura locale, l'economia è la grande scienza. Io ricordo un collega che venne qui un paio d'anni fa e mi guardò e sorrise e disse Ah però nel mondo l'economia e le feste non sono mai andate a braccetto, invece qui si funziona, quindi è un'esperienza gioiosa. Io torno qui ogni anno e sono certo che anche per voi è una splendida esperienza. Come testimonianza personale devo dire che sapevo già dall'inizio che sarebbe stata una splendida esperienza, è stata una grande impresa quella di non bere un bicchiere di bianco o di rosso. Vi assicuro che è stato veramente difficilissimo e l'ho fatto perché questo è un luogo straordinario. L'Institute for New Economic Thinking è alla ricerca di persone che possano condividere gli esiti della propria ricerca, sostenerli e invitarli a incontri come questo festival dove c'è gente che pensa in modo diverso, in modo innovativo, creativo e diciamo anche in linea con ciò che io definisco coraggio. Il nostro relatore, il dottor Paul Romer della New York University, quando ho pensato e ne ho parlato con Tito di invitarlo, mi ha ricordato la persona che mi ha portato qui per la prima volta, un accademico molto indipendente con una mente brillante che ha concepito studi e ricerca come mai nessuno aveva fatto prima. Proprio all'inizio della sua carriera organizzava una summer school qui a Trento e continua ancora a farne parte del comitato scientifico e veramente mi ha dato l'idea di venire qui con la mia famiglia per partecipare e condividere il tempo con voi tutti. Era una di quelle persone all'Università di California, a Los Angeles, che non aveva fatto parte della scuola di Chicago, di Keynes, però tutti pensavano fosse persona brillante e creativa. Questo mi ha fatto venire in mente Paul Romer, che ha studiato all'Università di Chicago. Si può leggere il suo blog, vi invito a leggerlo. Parla dei problemi della microeconomia, della macroeconomia, il costo dell'economia e naturalmente l'impatto di una serie di teorie economiche e le studia pubblicamente, il che è prova del suo coraggio e della sua integrità morale. Il coraggio di condividere le sue idee con i giovani accademici in modo che si stessi possano partire con la propria carriera seguendo l'esempio di questi mentori. Nel suo blog parla di moltissime cose interessanti e stamattina cita Feynman, un fisico, la Feynman Integrity e Paul è noto per essere un innovatore nella teoria della crescita endogena e attualmente è totalmente dedicato alla questione delle città, della geografia economica e dei luoghi, titolo di questo festival. E quindi devo dirvi che è molto grata del fatto che Paul possa essere qui con noi via video per presentare le sue teorie. Tito Boeri si unirà a noi fra poco, portarà avanti il dibattito, però prima daremo la parola a Paul. Eccolo qua. Buongiorno. Allora, a te la parola. Mi sentite? Sono un po' intimorito dopo queste parole così gentili e lodevole di introduzione. In particolare pensando alla sfida che mi aspetta, cioè unire festival ed economia. Io parlerò di un argomento che spero possa comunque alla fine essere affrontato con un certo ottimismo anche se partiamo da una situazione piuttosto triste. Innanzitutto, come risponde il mondo al fallimento degli Stati? Come si vede dalla crisi dei rifugiati? Però il problema fondamentale è quello del fallimento degli Stati. Qual è la realtà di oggi? Ci sono milioni di persone che vivono in Stati falliti e coloro che sono fortunati e vivono in uno Stato che fallito non è ecco, devono chiedersi qual è l'obbligo morale innanzi a noi e innanzi alla sofferenza di coloro che vivono in questi Stati che definisco falliti. Usiamo un'analogia col campo di battaglia. Ci sono molti feriti e continuiamo a reagire con l'idealismo della crocerossina, del cappellano, basandoci anche sul pragmatismo del medico. e naturalmente quando parliamo di impegni dobbiamo pensare all'equo trattamento, all'inclusione. Però in realtà un medico cosa fa sul campo di battaglia? Fa quello che si chiama triage, cioè la scelta con poche risorse mediche deve condividerle per applicarle a coloro che hanno più probabilità di sopravvivere. Quindi uno Stato fallito ha bisogno di questo pragmatismo, il pragmatismo che usa il medico sul campo di battaglia. Questo naturalmente deve andare di pari passo con l'idealismo. Non c'è un'incoerenza fra queste due cose. Diciamo però che si lavora su scale temporali diverse. L'ideale ci deve dire quale deve essere il nostro sommo obiettivo, però il pragmatismo è fondamentale per agire con realismo, per raggiungere questo obiettivo ideale. I due elementi fondamentali nell'idealismo sono innanzitutto il fatto che desideriamo sostenere l'autodeterminazione nei diversi Stati e nazioni del mondo e nel contempo vorremmo dare sostegno all'idea di una società aperta, come nella definizione di Popper, cioè dove la persona era libera di muoversi tra diversi Stati che agiscono in base alle regole dell'autodeterminazione democratica. Possiamo sostenere questo ideale, però dobbiamo riconoscere che siamo molto lontani da esso attualmente, il che rende difficile capire come raggiungere questo nostro obiettivo ideale supremo. La maggior parte delle persone sul pianeta vivono in luoghi in cui ci sono stati non funzionali, nel senso occidentale, del Nord America o di altri Stati europei. La risposta degli USA, se posso così definirla, è stata un tentativo di intervenire in modo militare per definire la base affinché uno Stato potesse perseguire efficacemente l'autodeterminazione. Quindi persiamo le invasioni dell'Iraq, dell'Afghanistan e la relativa organizzazione delle elezioni. La risposta europea è più simile a una traduzione dell'approccio società aperta, dove l'Europa sta cercando di accogliere i richiedenti asilo che fuggono da condizioni di violenza, conflitto e mancanza di opportunità. La risposta degli USA è fallita in modo incredibile dopo l'invasione dell'Iraq e dell'Afghanistan. Anche l'invasione di Haiti in retrospettiva è stata veramente inefficace nel portare avanti il cambiamento. Però l'Iraq e l'Afghanistan sono stati degli evidenti fallimenti. Ora gli Stati Uniti si stanno ritirando in una posizione disimpegnata che è difficile da giustificare sulla base della morale. Gli europei hanno iniziato nella onda di rifugiati seriani a cercare di accogliere grandi numeri di persone e di migranti. Hanno ben presto scoperto che il flusso più grande diventava assolutamente inconsistente col proprio sistema democratico, nel senso che sempre più europei si opponevano all'accoglienza di grandi numeri di rifugiati e ovviamente noi tutti siamo a favore della democrazia fondamentalmente. Per cui l'Europa si è trovata in questa situazione, in una situazione in cui non è in grado di disimpegnarsi, di lavarsi nelle mani fondamentalmente, però si trova a poter accogliere solo pochissimi richiedenti asilo. Il risultato è che si tenta di erigere delle barriere per evitare che i grandi flussi di rifugiati possano entrare in Europa dove possano godere di sicurezza e opportunità. A seguito di queste barriere sappiamo che ci sono migliaia di persone che muoiono, annegano nel mare, affondano sulle navi che tentano di attraversare il Mediterraneo. Vediamo ora di analizzare un esempio di un approccio più prammatico, isperato appunto a quella del medico di cui parlavamo prima. Innanzitutto prendiamo atto del fatto che questo approccio, come ogni approccio prammatico, prevede dei compromessi. Ogni compromesso può essere impegnativo, pertanto l'obiettivo qui non è dire che c'è una soluzione o quello che io propongo sarà la panacea. No, vi indicherò gli spazi che dobbiamo cominciare a studiare per cominciare a prendere atto del fatto che ci sono dei compromessi temporanei e dobbiamo fare delle scelte sulla base delle risorse e dei vincoli di cui dobbiamo prendere atto e che dobbiamo superare. Per spiegare la mia teoria cercherò di spiegarvi come gli USA avrebbero potuto rispondere in modo diverso. Sono stati spesi miliardi e miliardi di dollari per cercare di occupare migliaia e migliaia di chilometri quadrati in Iraq e in Afghanistan, questo per circa una decina d'anni. gli USA, al contrario, avrebbero potuto avere un approccio dimensionale diverso dicendo che cerchiamo di occupare meno terra, un decimo in meno, diciamo, dopodiché avrebbero potuto rimanere per un periodo dieci volte più lungo. Per esempio, supponiamo che avessero occupato centomila chilometri quadrati per cent'anni. ecco, questo sarebbe stato fattibile con lo stesso importo di spesa di prima, però questo avrebbe creato un ambiente diverso dove l'autodeterminazione democratica avrebbe potuto essere insediata. Questo è un esempio dei pro incontro che dobbiamo bilanciare in una scelta e in questo caso avremmo potuto dire sì, vogliamo ancora raggiungere la democrazia, ma questo lo dovremmo fare in un arco di tempo molto più lungo. Vediamo ora la prospettiva della risposta europea. La risposta europea è questa. Ecco, l'Europa non può permettersi di accogliere centinaia di migliaia di altri rifugiati, sicuramente non milioni né decine di milioni, però questa, diciamo, è la magnitudo dei possibili flussi. Per cui, per l'Europa, il problema qual è? O far sì che queste persone rimangano in patria, anche se non abbiamo alcuna possibilità di aiutarle a migliorare la propria qualità di vita, oppure si trova un altro luogo dove possano andare. Certo, uno può avere il diritto di andarsene dal proprio paese senza dover per forza accoglierlo in Europa, però ovviamente per fare questo è necessario fare delle proposte realistiche per indicare dei luoghi dove le persone che fuggono la violenza possano insediarsi. L'esempio che ci deriva dalla storia è Hong Kong. Hong Kong è stato un esempio in cui una potenza europea, la Gran Bretagna, ha dato delle garanzie di scurezza per una città, quindi dimensionalmente un luogo più piccolo di un intero paese e ha consentito un arco temporale sufficientemente lungo affinché la società si evolvesse in una certa direzione, cioè la direzione dell'autodeterminazione non l'autocontrollo democratico. È un'evoluzione che è stata interrotta quando è stata riconosciagnata la Repubblica Popolare Cinese, però se questo non fosse successo allora probabilmente sarebbe stato un risultato diverso, per esempio come è successo per le Mauritius che sono evolute in uno Stato democratico. Quindi quali sarebbero state le caratteristiche della nuova Hong Kong? Nello specifico ci vogliono circa mille chilometri quadrati e immaginiamo per un momento che alcune potenze europee si alleassero magari con parti del governo libico per avere qualche migliore di chilometri quadrati sulla costa libica. Quali sarebbero gli accordi politici? Come Hong Kong? Questa giurisdizione non sarebbe parte di alcuno Stato europeo, coloro che si fossero lì recati non sarebbero diventati europei, quindi senza diritto d'asilo in Europa, però si sarebbe potuto offrire il diritto di domicilio lì come è stato fatto per il caso di Hong Kong a cui è stata offerta la possibilità di vivere permanentemente ad Hong Kong ai cinesi con il diritto di portarsi le proprie famiglie e trovare un lavoro, godere di opportunità e sicurezza. quindi in questo modo potremmo offrire alcune idee desiderate diciamo ai rifugiati e naturalmente potrebbero essere coinvolti nel votare i propri politici quindi è un tipo di organizzazione che potrebbe consentire di fare emergere la democrazia col tempo. è interessante pensare anche alla possibilità che quei processi che portano alla democrazia possano procedere a velocità diverse perché non sappiamo con certezza quanto tempo ci vuole per costruire una democrazia vera. Possiamo pensare a Hong Kong e dire in cinque anni ci sarà un controllo locale e cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci saranno delle elezioni in base alle quali si deciderà chi comanda la polizia le forze dell'ordine e quelli che garantiscono la sicurezza in quella zona. Supponiamo un'altra zona in cui si sottoscrive l'impegno che le potenze europee esterne nomino un funzionario che possa essere responsabile a capo delle forze dell'ordine per 50 anni non più cinque. Quindi è sempre un accordo in base al quale la responsabilità democratica limita i poteri del capo delle forze dell'ordine e però coinvolgerebbe gli europei e i propri governi nella nomina di questo capo delle forze dell'ordine. Immaginiamo quei gruppi che si sono combattuti i Sunniti e Sciti per esempio preferirebbero recarsi in una zona in cui le transizioni avvengono in cinque anni oppure in cinquanta. Io penso che sarebbe interessante fare questo esperimento offrire questa scelta ho l'impressione che molti potrebbero preferire la zona dove ci vorrebbero cinquant'anni perché indire lezioni troppo presto è una cosa molto destabilizzante per cui se c'è una piccola maggioranza di Sunniti allora gli Sciti sarebbero preoccupati di cadere sotto la milizia Sunnita che li potrebbe opprimere quindi potrebbero ostacolare l'afflusso di più Sunniti favorendo l'accesso di più Sciti magari con attacchi violenti per impedire l'attuazione degli accordi democratici quindi una veloce transizione alle elezioni potrebbe essere destabilizzante invece un arco di tempo più lungo potrebbe garantire una maggiore sicurezza maggiori garanzie che una volta verificatisi non ci sarebbe il problema della comparsa di eventuali signori della guerra che opprimerebbero un gruppo piuttosto che un altro quindi se vogliamo pensare come il famoso medico chiedendosi che cos'è fattibile ora potremmo concepire delle zone delle aree come appunto Hong Kong che potrebbero accogliere non so 10 milioni in un regime di autofinanziamento perché le persone potrebbero recarsi come è successo ad Hong Kong in queste zone lavorare pagare le tasse le imposte eccetera quindi finanziare un governo locale si potrebbero prendere 10 milioni di persone in una certa zona dando delle garanzie di sicurezza sin dall'inizio con magari un costo fiscale molto limitato quindi in termini di sicurezza se pensiamo all'esempio degli USA ecco un decimo di superficie ovviamente potrebbe essere sufficiente per accogliere un certo numero di persone quindi effettivamente questo potrebbe garantire sicurezza per quanto riguarda le sedi luoghi sulla costa libica c'è spazio per 50 lotti che hanno la superficie di Hong Kong per esempio Sahara occidentale se incluso ne potremmo aggiungere altri 15 e quindi questi luoghi queste sedi che per il momento sono disabitate offrono l'opportunità per degli accordi cioè alcuni poteri europei potrebbero entrare volontariamente in accordo con per esempio la Libia o il governatorato del Sahara occidentale e anche il Marocco sarebbe coinvolto in questo dibattito però è del tutto realistico immaginare 5 o 10 sedi di questo tipo che potrebbero svilupparsi e crescere diventando della dimensione della normale metropoli di 10 milioni di persone e questo naturalmente farebbe capire qual è la logica dimensionale che ci serve oggi e sicuramente questo potrebbe meglio aiutarci a raggiungere questo nostro obiettivo ideale piuttosto a quello che stiamo seguendo attualmente e adesso vorrei lasciare per un attimo questo aspetto e lasciare magari tempo alle domande o al dibattito Paul quando ci hai parlato di creare delle nuove Hong Kong se vogliamo pensi a un gruppo a un consorzio di nazioni avanzate che agiscono come garanti oppure raccomandi paesi che siano a svolgere questo ruolo paesi come gli Stati Uniti o l'Europa ma per il momento penso che stia all'Europa a svolgere questo ruolo come ho già detto gli Stati Uniti in questo momento sono letteralmente bloccati per cui pensiamo che sia una potenza europea a svolgere questo ruolo ed è possibile che si tratti magari addirittura di uno Stato europeo in particolare potrebbe anche essere un'iniziativa presa a livello di Unione europea ma ritengo che le risorse necessarie per realizzare un progetto di questo tipo non sono enormi alla portata di paesi come la Germania la Svezia la Gran Bretagna anche dell'Italia ciascuno di questi paesi potrebbe tranquillamente portare avanti un'iniziativa di questo tipo per conto proprio Paul sono Tito Boeri ecco ho perso l'inizio della tua presentazione per cui spero di non dire nulla che tu hai già detto c'è una differenza fondamentale tra profughi migranti e migranti invece economici e questo è legato al fatto che c'è una migrazione obbligatoria spinta da situazioni difficili tipo conflitti per cui persone che lasciano il loro paese in grande ondate mentre la migrazione economica sappiamo più graduale al contempo anche i profughi hanno ovviamente delle motivazioni economiche cioè lasciano un paese il loro paese per motivi magari politici o di conflitto ma sostanzialmente si rivolgono a paesi in cui sperano di trovare condizioni di vita migliori per cui i profughi quando vengono in Europa non è che vogliono andare ovunque non è che accettano solo di vivere in paesi sicuri vogliono andare in paesi dove ci sono migliori opportunità Svezia Germania dove ci sono più opportunità economiche per loro per cui mi chiedo come si inserisce la tua proposta in questo tipo di visione considerate appunto quali sono le motivazioni che spingono i profughi ma si fa effettivamente questa distinzione arbitraria tra migranti economici e i migranti che sono sostanzialmente profughi che lasciano il loro paese per sfuggire a situazioni di conflitto di violenza dal nostro punto di vista sarebbe ideale poter accogliere tutti pensate non so genitori di bambini che vorrebbero semplicemente che i loro figli potessero crescere in paesi più sicuri che possano trovare un lavoro che possano andare a scuola ricevere un'istruzione voglio dire queste sono cose che tutti hanno diritto di desiderare e che dovremmo poter garantire a tutti è proprio questa idea dell'impossibilità di fare queste cose della mancanza di risorse che ci porta a dire ma no possiamo aiutarne solo alcuni possiamo aiutare solo coloro che veramente sfuggono alla violenza ai conflitti sono solo questi a cui possiamo concedere un diritto d'asilo per cui si può magari mantenere una politica di concessione di asilo per i profughi ma garantire anche ad altri la possibilità di trovare posti in cui andare trovarsi un lavoro e farsi una vita non dimentichiamoci che Hong Kong ha rappresentato un'opportunità immensa per tutti coloro che sono fuggiti dalla Cina non era solo l'opportunità che veniva da uno stato sociale ma anche soprattutto l'opportunità di trovarsi un lavoro e quindi di garantire i propri figli condizioni di vita migliore un'ostruzione e via dicendo e questa è la cosa a cui io penso ed è la cosa che secondo me la maggior parte dei migranti o dei profughi ricerca per far funzionare un'idea di questo tipo si presuppone che ci sia uno stato una democrazia che si prenda la responsabilità di nominare qualcuno a capo delle forze di sicurezza ma anche delle forze di polizia che operano in quella area che viene prescelta questo è il ruolo che deve svolgere la potenza europea e poi si deve dare la possibilità a coloro che si recano in queste aree di costruire le città in cui vorranno poi vivere per cui non dobbiamo pensare che questo sia un progetto che richiede un investimento di capitale immenso perché non sono nate così le città storicamente non sono mai nate così le città dovete pensare a queste aree come zone in cui si hanno opportunità economiche per coloro che migrano in queste aree e a quel punto hanno anche la possibilità di sviluppare di costruire le città in cui voglio vivere per quanto riguardano invece gli ingredienti che devono esistere per poter realizzare questi progetti queste idee di città io so che tu parli spesso di appunto dominare qualcuno a capo delle forze dell'ordine eccetera però tu hai parlato di una nazione europea che deve fungere un po' da garante creare le strutture per permettere poi a questo progetto di realizzarsi sì non bisogna concentrarsi solo su ovviamente le forze dell'ordine le forze polizie ma anche ad esempio sulla magistratura magistratura che poi deve applicare la legge ecco la legge diciamo le leggi commerciali di cui tanto si parla sono forse le meno importanti qui qui si parla soprattutto di sicurezza e quando si parla di sicurezza si sa che voglio dire le persone possono fare tante cose possono anche magari fare affari sulla base semplicemente della propria reputazione poi man mano che le cose si complicano a quel punto si può magari fare ricorso a un contratto e a quel punto ci dovranno essere dei tribunali che li fanno rispettare questi contratti ma inizialmente la cosa più importante è garantire la sicurezza a queste persone che sfuggono dalla violenza se non si riesce a fare questo a quel punto viene meno proprio il principio base di questo concetto per cui sicuramente le forze dell'ordine le forze di polizia ma anche la magistratura rappresentano decisamente degli ingredienti fondamentali che devono essere garantiti nella creazione iniziale di queste aree di queste zone ma ci sono altre cose che tu ti sentiresti di aggiungere a questo elenco oltre ovviamente alle forze dell'ordine e ai tribunali ma sì se mi permettete di fare una piccola digressione il motivo per cui non sono potuto venire da voi è perché sono dovuto andare in Colombia perché sono dovuto andare in Colombia perché noi stiamo collaborando con il governo colombiano per cercare di aiutare loro a gestire le ondate di profughi e di sfollati sono chiaramente movimenti interni al paese che si spostano dalle zone rurali o dalle città di secondo livello alle grandi aree metropolitane e quindi loro devono cercare di trovare un modo per accogliere centinaia di migliaia di persone che si muovono all'interno del paese ma che non ha sostanzialmente un domicilio fisso ecco questa esperienza che stiamo facendo col governo colombiano ci ha fatto capire che esiste un altro elemento un'altra dimensione in cui è lo Stato che deve fare il primo passo un qualcosa che potrebbe sembrare prosaico rispetto invece alla necessità di garantire la sicurezza a queste persone se pensate appunto ai terreni ai terreni che vengono occupati bene è lo Stato che deve muovere il primo fare il primo passo e decidere quali saranno gli spazi destinati ad esempio alla mobilità piuttosto che ai servizi di base da garantire e per tutte quelle interconnessioni che sono necessarie all'interno di una città bene tutte queste interconnessioni possono essere possibili solo se si ha lo spazio che permette di realizzare strade marciapiedi quindi le condotte dell'acqua la cablatura per garantire le forniture elettriche le strutture per garantire per esempio i trasporti pubblici quindi quello che stiamo facendo proprio per garantire la crescita delle nuove delle città in Colombia è far sì che lo Stato stabilisca quali sono questi spazi da occupare e poi far sì che siano i privati invece a decidere sulla destinazione degli spazi invece privati cioè diciamo che i terreni o i lotti di terreno che rimangono dopo che questi spazi pubblici sono stati destinati per cui questo non richiede grandi investimenti ripeto si tratta semplicemente di garantire alcuni spazi spazi ovviamente che fanno parte del demanio pubblico e che vengono utilizzati e destinati allo sviluppo delle nuove città o delle moderne città colombiane se pensate appunto di nuovo all'esempio di Hong Kong pensate partire come qualcosa da Hong Kong anche a Hong Kong erano state stabilite delle aree demaniali che so io dove veniva garantita appunto la protezione dell'ambiente ecco definire questi spazi pubblici proteggerli e i nuovi arrivati i nuovi residenti possono occupare invece gli spazi privati e abbiamo visto questo cosa ha portato poi c'è stata una vera propria invasione negli spazi demaniali alle propaggini di Lima in Peru e i parroci che hanno portato avanti questa invasione chiamiamola così sono partiti da un'area che era sostanzialmente una baraccopoli e che adesso è diventata invece un'area estremamente vitale e decisamente di livello superiore proprio alle propaggini di Lima anche in Nevada si è assistito a movimenti di questo tipo ci sono appunto i cittadini che invadono letteralmente le strade che richiedono gli interventi governativi per migliorare sostanzialmente le strutture e si è visto che in alcune zone di questo tipo sono sorte delle vere e proprie città ex novo che ospitano 700.000 abitanti per esempio in un caso quindi sostanzialmente il governo deve dire bene destiniamo queste aree pubbliche che verranno ovviamente protette e verranno poi concesse sostanzialmente i nuovi residenti che arriveranno potranno costruire le loro strutture spesso si tratta delle unità residenziali in cui si stabiliranno e poi potranno appunto magari non avere delle strade asfaltate magari semplicemente delle strade non asfaltate magari nelle fasi iniziali ma poi man mano che va avanti la vita di queste persone in queste zone man mano che queste persone lavorano potranno decidere di far asfaltare le strade potranno decidere di collegarsi per esempio all'acquedotto pubblico e queste citi da embrione potranno diventare invece degli esempi di successo di centri metropolitani che possono competere da tutti i punti di vista con le grandi città metropolitane del mondo ecco vorrei continuare su questa falsa strada e vorrei continuare a fare l'avvocato del diavolo perché in realtà è questo il ruolo che mi è stato assegnato oggi quindi anche per mantenere vivo il dibattito è difficile progettare la crescita di una città oppure creare una città da zero una conurbazione urbana da zero molti degli esempi che tu hai fatto se ho ben capito sono esempi di aree che si trovano generalmente le propaggine di grandi città già esistenti per cui in altre parole si recuperano dei terreni o si riqualificano aree tipo bidonville che si trovano le propaggine delle grandi città e non tanto creare nuove città da zero anche se quella che tu hai menzionato è una città vera e propria però qui noi stiamo parlando di milioni di profughi che dobbiamo ospitare quindi le città che dovrebbero essere create dovrebbero essere enormi ci sono tantissimi esempi di fallimenti di questo tipo anche in Cina in Cina dove sono state create tante città da zero dove le persone sono state portate quasi di forza sono state fatte sfollare dalle loro case e sono state portate in queste nuove conurbazioni urbane ripeto quasi di forza il che ovviamente è una situazione completamente diversa ma comunque sia l'economia di queste aree se ho ben capito sarebbe determinata soprattutto dalla costruzione di unità residenziali mi sembra di capire perché generalmente quando si crea una nuova città la crescita di questa città si basa generalmente su alcuni fattori economici come gli scambi commerciali le risorse naturali e altre cose quindi per cui non so voglio dire non è facile no? Sì direi che è anche giusto mettere in discussione un'idea come quella che io ho illustrato e dobbiamo sempre cercare di capire che direzioni potrà prendere un'idea di questo tipo che però sia sempre coerente con una direzione che sia sempre coerente con il pragmatismo che la caratterizza è chiaro è chiaro che anche in questi progetti ci deve essere poi uno scambio con il resto del mondo perché si acquisiranno poi risorse anche dal resto del mondo in un processo di sviluppo economico si ha una sequenza quasi naturale di passaggi il primo il primo settore che emergerebbe in una sezione in un'area di questo tipo sono sicuramente le società che raccolgono i rifiuti per cui ci sono aziende che operano in altre parti del mondo che potrebbero venire qui aprire la loro attività qui magari che so io aziende che assemblano appunto capi d'abbigliamento magari realizzati altrove che creano le fabbriche di assemblaggio di questi capi d'abbigliamento in queste zone questo potrebbe essere il primo esempio di settore che emerge abbiamo visto che questi sono generalmente le prime occupazioni per queste persone ma poi diventano poi una fonte di altra occupazione occupazione che richiede delle competenze maggiori e che sono generalmente competenze che si acquisiscono proprio svolgendo queste prime attività industriali poniamo un caso un caso di una di queste nuove aree che si mette che può competere con non so produttori di capi d'abbigliamento del Bangladesh ovviamente qui godrebbero di una sicurezza maggiore avrebbero delle garanzie maggiore perché c'è questa garanzia da parte degli stati che garantiscono la sicurezza di queste aree se avessero bisogno di più terreni per crescere per sviluppare questo centro urbano avrebbero la possibilità di farlo per cui è vero si parte magari con una industria quali industria leggera piuttosto che l'assemblaggio di capi d'abbigliamento e così come è avvenuto con Hong Kong si può passare molto rapidamente ad altri tipi di attività attività produttive ovviamente più avanzate sulla base chiaramente della crescita e dello sviluppo del capitale umano di questa zona quindi sì le imprese di costruzione anche queste ci stanno però sicuramente gli scambi con il resto del mondo possono facilitare la crescita in queste aree anche se secondo me cercare investimenti dall'esterno non mi sembra la soluzione giusta ecco se incominciassimo a realizzare alcune di queste aree e alcune di queste fallissero ma questo ci sta voglio dire va benissimo perché ripeto creare queste aree non inchiede un grande investimento ripeto si decide quale area destinare a questi nuovi arrivati e poi chiedere a chi vuole venire di venire e di insediarsi lì ovviamente sarebbero aree migliori rispetto ai paesi in cui queste persone vivevano inizialmente dalle quali si sono spostate queste persone possono venire in un'area provare a vivere lì se poi non va bene potrebbero spostarsi un'altra e scegliere una migliore per cui definire la giurisdizione definire per esempio il diritto di residenza o di domicilio che è diverso ovviamente dal diritto di cittadinanza previsto dalle nazioni europee ecco nel momento in cui si definiscono queste cose il che ripeto non richiede un grande impiego di risorse dopodiché voglio dire non è difficile e se poi un'area di queste dovesse fallire non è un grosso problema benissimo abbiamo domande dal pubblico a questo punto se non riesci a sentire cercheremo di riproportele noi stessi ecco se nel frattempo posso dire un'altra cosa quale potrebbe essere una possibile fonte di insuccesso per queste aree ci sono decine di milioni di persone che sarebbero disposte a spostarsi immediatamente in un posto dove hanno semplicemente la garanzia di vivere sicuri e di trovare un lavoro ecco una delle cause di insuccesso potrebbe essere replicare l'esperienza dei campi profughi e dire che coloro che vanno in queste zone non hanno la possibilità di lavorare ecco questo sì potrebbe essere una follia sarebbe veramente una perdita di tempo sarebbe ripeto una follia si potrebbe avere lo stesso effetto se si dicesse potete lavorare qui fino a che non riuscite ad ottenere magari un salario minimo cioè un salario decente diciamo 10-15 euro perché ovviamente non vogliamo che queste persone vengano sfruttate ma non vogliamo neanche che sottragano questi lavori alla mano d'opera locale ecco un atteggiamento di questo tipo per esempio impedirebbe a queste persone trovarsi un posto di lavoro in una fabbrica che assembla capi di abbiamento e non avrebbero la possibilità di conseguenza di acquisire tutta una serie di competenze in tutta una serie di aree relative a questo tipo di settore quale controllo qualità e via dicendo quindi secondo me l'unico modo per far sì che queste aree abbiano successo sia appunto garantire la sicurezza ma dare anche a queste persone la possibilità di trovarsi un lavoro quello che hai detto è molto importante e va ben oltre anche quello che tu ci hai proposto tant'è vero che alcune delle politiche a favore dei profughi prevedono proprio di obbligarli a non lavorare perché? perché appunto devono stare nei centri di accoglienza per periodi di tempo prolungati impedendo loro di diventare produttivi in tempi brevi e questo crea tutte le problematiche a cui tu hai fatto cenno ci dovrebbe essere una domanda anche di Jesus Fernandez che alcuni giorni fa ha presentato una proposta molto interessante perché è vero tu hai parlato di alcuni stati europei ma a quel punto c'è un problema di coordinare questi stati europei ecco lui ha parlato invece di riubicazione di questi profughi e dà loro la possibilità di sediarsi appunto altrove magari Jesus vuole dire qualcosa a riguardo e poi chiaramente gli diamo anche la possibilità di commentare la tua proposta sì grazie beh trovo la tua proposta intanto molto molto interessante e quello che ha in comune con la nostra proposta sentito quello che hai appena detto è proprio che si prevede di dare la possibilità ai profughi di scegliere intanto dove insediarsi nel tuo caso si tratterebbe queste nuove città noi invece proponevamo anche un'altra cosa cioè quegli stati che non sono disposti ad accogliere i profughi potrebbero pagare diciamo qualcosa invece a quegli stati disposti ad accogliere i profughi e in questo modo potrebbero appunto potrebbero finanziare lo sviluppo di nuove città la cosa più interessante della tua proposta però questa è la mia domanda che cosa potrebbe non funzionare in un certo qual modo di questa proposta tu hai detto a un certo punto che non dobbiamo replicare l'esperienza dei campi profughi sappiamo che ci sono dei campi profughi immensi che ospitano centinaia di migliaia di persone basta pensare ai campi profughi in Kenya in Tanzania e anche nel Sahara occidentale sappiamo che ci sono persone che vivono di queste zone probabilmente queste zone che vivono ancora nei campi profughi in Algeria per cui vorrei che tu ci dicessi qualcosa di più riguardo a questo perché questi campi profughi per esempio non si sono sviluppati in nuovi centri urbani in queste nuove città e poi vorrei fare anche un altro esempio storico tu hai parlato di Hong Kong io vorrei invece che tu commentassi su Israele sulla storia di Israele ah se sì no certamente e come questa si potrebbe correllare diciamo alla tua proposta beh una delle caratteristiche di questa idea è che se vogliamo un aspetto pragmatico che rende questa idea fattibile è che è un qualcosa su cui ci stanno lavorando molti devo dire magari anche tu ci stai lavorando è proprio vedere come si possono trasformare queste persone che rimangono intrappolate nei campi profughi e non riescono a lavorare a farle diventare persone che sostanzialmente possono cogliere delle opportunità e quindi trovarsi un posto di lavoro sappiamo il fatto che non possano lavorare chiaramente è dannoso per tutti perché li ospita e per loro stesse e se vogliamo le nostre proposte si integrano tra di loro immaginiamo un campo profughi in cui il governo ospitante per motivi politici non è in grado di garantire a questi profughi di essere produttivi di trovarsi sostanzialmente un lavoro adesso se avessimo un campo profughi di 10 milioni di profughi negli Stati Uniti per esempio io sono quasi certo sono quasi certo che considerate la situazione politica dei paesi in questo momento queste persone non avrebbero la possibilità di lavorare in questo momento c'è tanta così rancore tanta ostilità tanta animosità nei confronti degli emigranti che sono certo che anche negli Stati Uniti si farebbe esattamente quello che stanno facendo paesi come la Giordania per cui ci dobbiamo rendere conto che non è facile far sì che uno Stato garantisca a questi profughi la possibilità di lavorare però dovremmo fare tutte le pressioni possibili affinché questi paesi si rendano conto che non è accettabile che è dannoso e quindi cambino il loro atteggiamento però al contempo dobbiamo creare delle zone in cui queste persone possono recarsi e insediarsi quindi dire alle persone che vivono ancora nei campi profughi che hanno una possibilità o di tornare nel proprio paese oppure di arrivare di stabilirsi in queste zone in cui non appena arrivano avranno la garanzia di trovare un lavoro questo sarebbe vantaggioso intanto perché darebbe un senso di controllo a coloro che in questo momento si sentono intrappolati in questi campi profughi e si sentono di non essere in grado di avere nessun controllo sulla loro vita per cui garantire per esempio alle persone che lavorano che vivono nei campi profughi poi di lavorare questo potrebbe essere una così un elemento in più che andrebbe a integrare questa mia proposta per quanto riguarda poi Israele beh Hong Kong è stato un esempio molto molto utile una lezione molto utile anche perché non solo ha offerto alle persone che si sono trasferite a Hong Kong e dalla Cina di trovare condizioni di vita migliori ma è stato vantaggioso anche per la Cina stessa perché se andiamo a guardare la storia di Israele Israele ha dato opportunità a tutti coloro che sono emigrati da altri paesi che sono insediati ad Israele ma non si tratta di tutte quelle opportunità di autodeterminazione che sono state garantite invece da altri paesi se ci pensate bene cosa potremmo fare per far sì che queste nuove aree si muovano e si sviluppino più nella direzione che ha seguito Hong Kong rispetto invece a quella che ha fatto Israele col senno di poi se si potesse rifare tutto una cosa che andrebbe fatta diversamente sarebbe non tanto creare una nuova potenza che sia in grado di controllare queste zone in cui queste persone vogliono vivere o in cui hanno vissuto in precedenza perché è ovvio che queste persone si opporrebbero a un'imposizione da parte di un chiamiamolo regime che non riflette e non salvaguarda i loro interessi la decisione di creare lo Stato Israele in un luogo in cui c'erano già molte persone che risiedevano e risiedevano da secoli se vogliamo per motivi storici risiedevano lì ecco questa decisione inevitabilmente avrebbe creato come ha creato ostilità conflitti e non avrebbe portato a quella inclusione che si invece vorrebbe vedere in queste aree per cui ci sono delle zone tra l'altro in Israele che non sono praticamente popolate se si riuscisse a trovare chiaramente un sistema per rendere potabile l'acqua del mare ci sono questi sistemi di desanalizzazione ormai e dare la possibilità delle persone di insediarsi in zone che non sono densamente popolate se però queste persone lo desiderano e non perché viene imposto loro beh allora questo secondo me garantirebbe un'evoluzione di queste zone nella stessa direzione seguita da Hong Kong piuttosto che non nella direzione seguita da Israele e poi c'è anche un effetto collaterale di questa ostilità che si è venuta a creare Israele perché è difficile avere una società veramente inclusiva che si impegna a garantire equo opportunità un equo trattamento a tutti quando c'è qualcuno che si sente minacciato dalla violenza Israele ha fatto veramente fatica per cercare di creare questa società di inclusione per includere sostanzialmente gli arabi gli arabi che risiedono in Israele per cui qualunque nuova area si crei è necessario garantire un trattamento eco per tutti i residenti di quest'area e questo è un altro punto in cui si rende particolarmente utile quell'approccio pragmatico di cui parlavo poc'anzi se garantiamo l'accoglienza agli migranti in Europa o negli Stati Uniti non possiamo dire loro non avete il diritto al voto ma potete vivere e trovarvi un lavoro in questa zona ad Hong Kong per esempio c'è lo svantaggio che non si ha un controllo elettorale se vogliamo locale questo controllo viene dall'esterno e in un certo qual modo questo permette però di attirare nuovi cittadini rapidamente e trattare comunque tutti allo stesso modo quindi non ci sono disparità non ci sono trattamenti diversi rispetto agli emigranti temporanei che potrebbero anche essere emigranti a lungo termine e poi diventare cittadini e i cittadini già residenti in Hong Kong da tempo per cui voglio dire bisogna creare delle aree in zone per il momento non ancora abitate per poter garantire poi un trattamento equo a tutti indipendentemente da quella che è la loro nazionalità il loro credo religioso quindi trattamento equo garantito proprio dalla legge in un'area in cui si garantisce anche la sicurezza ecco secondo me questi sono gli ingredienti chiavi per garantire poi il successo di questa idea quindi inclusione o istruzione ovviamente e poi in ultimo armonia sociale abbiamo un'ultima domanda di Francesco Anesi se ho ben capito e poi mi sembra capire che ci sono altre persone che vorrebbero fare domande professor Romer grazie per una presentazione in attesa anzi un esercizio intellettuale di immaginazione in atteso ma decisamente molto costruttivo come lei giustamente ha dimostrato si potrebbe fare un caso di studio di questi stati falliti e si è parlato proprio qui a Trento del fallimento da parte di molte istituzioni nei confronti di questo dramma degli profughi l'agenzia delle Nazioni Uniti per i rifugiati ha dichiarato che sono necessari molti fondi per garantire appunto una risposta efficace alla tragedia dei profughi e poi da qualcun altro è stato detto che i profughi non dovrebbero essere trasferiti nelle aree rurali perché un incremento di di un per cento della presenza di profughi in queste aree aumenterebbe dell'un per cento il populismo mentre le città sono in grado di assorbire molto meglio queste ondate di profughi quindi la mia domanda è questa come lei giustamente ha dimostrato esiste un caso di studio qui e gli economisti hanno il dovere di analizzarlo e di studiarlo a fondo a questo punto qual è il ruolo degli economisti nello svolgimento del loro ruolo pubblico quindi per il bene pubblico in casi come questo ovviamente se la tematica è troppo ampia ci si potrebbe chiedere a questo punto fino a che punto la sua proposta si inserisce nel programma di ricerca nell'agenda della ricerca scientifica che è stato presentato negli ultimi tempi sì hai assolutamente ragione Rob questo è un festival incredibile non potrei essere più che d'accordo e gli economisti secondo me non hanno fatto un gran bel lavoro nel affrontare questa tematica perché tra l'altro tra di noi gira una battuta una battuta che prevede l'uso di un'apprescatola cioè se avete un'apprescatola che cosa fanno gli economisti ecco se avessimo un'area in cui si garantisce sicurezza inclusione nel processo politico e si chiedesse poi quale potrebbe essere l'effetto di portare in queste aree dei profughi la risposta di tutti gli economisti sarebbe sicuramente un esercizio utile perché queste persone potrebbero trovarsi un lavoro creare attività produttive diventare dei contribuenti quindi sviluppare e crescere ulteriormente direi che questo è un quadro molto ottimista che ci fa capire che cosa potrebbe succedere se permettessero a grandi numeri di profughi l'accesso in Europa però questo non affronta il costo sociale e politico implicato da queste grandi ondate di immigrazione mentre l'elettorato capisce subito quali sono questi costi mentre gli economisti questi costi li trascurano secondo me e il ruolo dell'economista è proprio questo affrontare il costo sociale e politico non solo il costo economico di queste grandi ondate migratorie però se andiamo a vedere quei casi in cui si sono avuti piccole ondate di immigrazione qui i costi sociali e politici sono molto limitati chiaro se anche aumentassero i flussi alcuni economisti dicono questi costi rimarrebbero altrettanto limitati in realtà questi costi sociali e politici aumentano in maniera quasi esponenziale più che la crescita dei nuovi migranti che arrivano quindi come economisti dovremmo dire sì ci rendiamo conto che ci sono delle implicazioni sociali e politiche che dobbiamo affrontare quindi dobbiamo considerarli tutti insieme utili ai costi economici per cercare poi di formulare una proposta fattibile e questo implica anche considerare che laddove non siamo in grado di garantire inclusione laddove non siamo in grado di garantire equo opportunità a tutti dobbiamo accettare l'idea che ci potrebbero volere decenni per creare un sistema democratico stabile e non mesi e questo è un po' l'errore che fa costantemente che fanno costantemente gli Stati Uniti pensano di poter avviare un processo democratico nell'arco di pochi mesi pensando che questo possa portare a una democrazia stabile cosa che non avviene e invece forse ci vorrebbe proprio il modello britannico di transizione alla democrazia quindi il modello Hong Kong per cui mi auguro che gli economisti incominciano a rendersi conto di questa realtà cioè delle implicazioni sociali e politiche che questo dramma dei profughi ha considerando però comunque che i costi fiscali sono assolutamente trascorabili di nuovo ai contribuenti britannici Hong Kong non è costato nulla perché generava reddito localmente ed è stato un esempio di grandissimo successo se vogliamo proprio vedere per cui è vero che un maggiore numero di migranti che affluisce in queste nuove aree in queste nuove città significherà più contribuenti che pagheranno le tasse però allo stesso tempo ripeto è vero che bisogna affrontare anche la sfida rappresentata dalla creazione di una società stabile e coerente che possa poi durare nel tempo abbiamo una domanda dal pubblico buongiorno sono Giorgio Svampato sono un investitore nei fondi di impatto sociale vorrei citare la questione del burning man e sappiamo che non è proprio un'attività fra le più prevalenti lei ha parlato di condizioni ma quali sono le condizioni iniziali per garantire sicurezza infrastrutture immagino che i governi avranno un grosso ruolo da svolgere nel creare questo contesto però a un certo punto a prescindere dal governo e dalle sue attività ci vorrà un'attività economica che parte con il contributo magari della scienza che ci dice quale saranno le regole di quelle attività economiche nate sul posto inoltre volessimo mobilitare fondi come il nostro quindi coinvolgendo i grossi investitori in ambito sociale quali sarebbero le regole del gioco per coloro che volessero insediarsi con le proprie attività economiche non solo scopo caritatevole e benefico io credo che si debba prendere atto che data la dimensione del problema ci sono centinaia di milioni di persone che alla domanda risponderebbero sì andrei all'estero quindi ce ne sono centinaia di milioni magari anche un miliardo che è disposto a trasferirsi quindi la filantropia innanzi all'entità di questa sfida ha un ruolo limitato quindi bisogna dare priorità nell'uso di questi fondi filantropici ossia potrebbero magari generare un grosso ritorno magari attuando degli scambi di reciproco vantaggio su giusta scala io non userei fondi filantrofici in questi nuovi luoghi per asfaltare la strada o creare l'acquedotto o nuovi edifici tutto dovrebbe avvenire tramite questo reciproco scambio proficuo certo la filantropia potrebbe sostenere le giuristrizioni ossia come a Hong Kong avere un luogo dove la gente può liberamente insediarsi e avere delle garanzie di sicurezza tramite un buon sistema della giustizia delle forze dell'ordine la questione del Burning Man insomma non ci vuole non basta una settimana sono d'accordo con lei però è un buon esempio quello che ho fatto per spiegare come si può sviluppare una nuova città praticamente anche non so recintando alcune aree decidendo qual è il percorso delle strade decidendo quali sono i fondi privati e naturalmente se uno è in grado di costruire una casa o occupare un terreno ecco quel terreno o quella casa saranno di chi li ha costruiti di diritto cosa possono fare i fondi filantropici potrebbero per esempio dire noi valutiamo la qualità dell'acqua che viene portata con i camion ben presto ci sarebbero degli imprenditori che porterebbero lì dei camion con l'acqua ci sarebbe qualcuno che la renderebbe potabile e sicura per chi la beve quindi ecco questo potrebbero fare le organizzazioni filantropiche magari c'è un imprenditore che porta un camion con l'acqua poi c'è un'azienda che si occupa di confezioni di abbigliamento e lì c'è un altro imprenditore o altre aziende che decidono di costruire un nodo aeroportuale dove questi abiti vengono portati quotidianamente a Parigi alle maison di moda e magari un altro imprenditore potrebbe assumersi la gestione di un intero aeroporto quindi la filantropia potrebbe diciamo contribuire a creare le condizioni di base per il successo dell'iniziativa c'è una signora qui davanti che ha una domanda io vorrei chiedere all'America soprattutto di togliere il muro in Israele ve lo chiedo per favore togliete quel muro e fate due nazioni solo così avremo la pace grazie è una dichiarazione politica sul mudo israeliano la signora dice che quel muro non serve capisco benissimo che un muro è sempre associato a qualcosa di negativo non è una garanzia di successo torniamo a quanto detto all'inizio a proposito del medico sul campo di battaglia ogni settimana ci sono migliaia di persone che muoiono e questo è un'emergenza anche nel processo decisionale non c'è nulla di onorevole nel stare lì a guardare e non far nulla nel mezzo di condizioni terribili è vero potremmo assumerci un rischio se facciamo qualcosa potremmo creare delle condizioni che non funzionano però se non altro si può porre rimedio in itinere dobbiamo smettere di aver paura e di stogliere lo sguardo dobbiamo fare qualcosa un'altra domanda lì in fondo ancora due domande poi dobbiamo chiudere buongiorno una domanda un po' diversa riguarda l'inclusione nel processo politico cosa molto interessante nuovo stato insediamento che lei ha concepito non non sarebbe non ci sarebbe il rischio di ostilità nei confronti di questi valori della democrazia occidentale magari molti sarebbero ostili perché li troverebbero contrari a altri ideali come per esempio quello della sciaria anche questo è un aspetto pratico molto importante se riuscissimo a far partire un paio di questi luoghi sarebbe interessante cercare di dire beh in questo accoglieremo i valori che prevalgono in Europa in un altro diremmo qui cercheremo di sostenere valori diciamo più tradizionali per esempio per esempio non so come si vestono gli uomini e le donne ci vorrebbe un atteggiamento borigerato dell'abbigliamento maschile e femminile creando due luoghi simili così diversi sarebbe interessante vedere quale verrebbe preferito dalla gente ovviamente non sarebbe solo una questione di abbigliamento ma anche disponibilità di alcol insomma si potrebbero sartorializzare le regole al luogo quindi ovviamente nessun Stato europeo sosterebbe uno Stato in cui la mutilazione dei genitali sarebbe una prassi accettata ovviamente vorremmo rimanere nel dominio dell'accettabile però la gente avrebbe la scelta potrebbe scegliere anche più di un luogo e in questo modo sicuramente potremmo evitare il risentimento che ha citato lei a Hong Kong non si auspicava molto controllo locale democratico delle forze di polizie e quindi la necessità di andare verso una democrazia locale è un'esigenza nata quando ci si è accorti che la transizione sarebbe finita nelle mani del governo della Repubblica Popolare Cinese si può immaginare che i residenti sarebbero felici di vivere in un luogo tipo Washington per esempio dove la città è controllata dai locali oppure altri luoghi in cui si rivolge solo una parte dei poteri al governo della città dimenticavo una cosa tornando a Israele e alla tolleranza pensate ai vantaggi di chi non si trova nella zona e invece quelli che ci sono in Libia sarebbe utile poter allestire un paio di queste zone magari una sola nel territorio libico facendo sì che ogni libico che vuole diciamo rifugiarsi in questa zona sicura avrebbe il diritto di farlo nel senso che avrebbero magari priorità rispetto a coloro che vengono da altri stati per i libici per le famiglie sarebbe molto interessante perché sapete la sicurezza lì è veramente inevitente se sapessero che c'è una zona sicura in cui portare i propri figli senza rischiare di attraversare il Mediterraneo su un barcone questo li potrebbe riassecurare e ne sarebbero lieti quindi un nuovo possibile governo libico potrebbe trarre vantaggio magari dal flusso finanziario che potrebbero venire in essere da queste soluzioni quindi potrebbe essere importante rendere interessanti queste zone per coloro che vogliono recarvisi ma anche per i residenti di quel paese in cui questi luoghi verrebbero creati questa è l'ultimissima domanda cercherò di essere breve per la fattibilità politica di questa idea e i motivi per cui alcuni stati sono falliti alcuni lo hanno fatto perché diciamo che delle istituzioni deboli sono state demolite dalle tensioni internazionali o da interessi contrapposti quindi questo intervento in uno Stato non potrebbe forse scatenare una competizione internazionale queste zone potrebbero diventare non solo delle città che accolgono persone ma anche dei baluardi militari e quindi forse sottolineando troppo il ruolo dell'inurbamento del modello dell'inurbamento si potrebbe finire con andare a diciamo a prosciugare le zone rurali svuotando dei territori che devono essere seguiti accuditi ottime domande tutte quante sarebbe positivo se molti diversi paesi cercassero di entrare in concorrenza per allestire queste sedi ecco non so pensate che la Svezia dica vogliamo allestire una questa sede in Libia Giappone invece nel Sahara occidentale gli USA da un'altra parte la Russia ancora da un'altra quindi questo tipo di concorrenza se avvenisse in un contesto in cui si garantiscono i diritti di ingresso sarebbe una concorrenza positiva se poi a tutto questo si potesse aggiungere un trattato un impegno un patto sarebbe una garanzia per tutti sapere sapere che c'è un forte impegno e sapere che nessuna potenza esterna possa usare questo luogo per crearne una base militare quindi non dovrebbe essere un porto militare né una base aerea militare eccetera magari non sarebbe possibile evitare la presenza militare in questi luoghi però credo che dovremmo impegnarci ad avere un approccio medico diciamo così e dire bene se mettiamo un po' di russi un po' di cinesi un po' di europei un po' di americani ma alcuni indiani ecco molte parti potrebbero essere coinvolte in tutto questo ecco tutti questi paesi dovrebbero imparare a convivere in un sistema mondiale stabile collaborando per mantenere questi luoghi nella stabilità quindi io preferirei un tipo di concorrenza che non portasse a una militarizzazione ma se magari l'alternativa al nulla è avere una certa presenza militare ecco forse sarebbe meglio avere un po' di soldati però una cosa su cui non si deve trovare un compromesso e non cedere è proprio l'ingresso e l'uscita la gente non può rimanere intrappolata in un luogo in una nuova versione del muro di Berlino un'ultima un'ultima osservazione la vita cittadina urbana ecco la gente vuole stare in città non nelle zone rurali qualcuno ha parlato della possibile rovina delle zone rurali ecco la protezione e la tutela di grandi superfici di terreno ovviamente aumenta l'onere della sicurezza per chi se ne fa carico quindi credo che l'unica soluzione pratica per il futuro sia diciamo un approccio a un ambiente urbano come quello di Hong Kong con attività agricole che vengono portate avanti in altri luoghi nella costruzione di nuovi stati bene grazie Paul possiamo concludere condividendo due pensieri il primo ascoltandoti lasciando andare l'immaginazione e pensando a come raccogliere importanti sfide mi ha ricordato che alcuni anni fa lavoravo a Washington e dopo essere andato a New York sono salito sull'Amtrak e il treno te l'avevo già contato e andando da New York a Washington ho fatto uno dei viaggi in treno più belli di tutta la mia vita c'era moltissima gente e ero seduto vicino a un signore che era veramente una persona creativa di ispirazione e quasi a destinazione cominciò a farmi delle domande sulla mia formazione e mi disse dovrebbe conoscere il mio figlio e stavo viaggiando con il padre di Paul che poi ci ha fatto conoscere e quindi siamo qui grazie a quell'incontro sull'Amtrak quindi grazie Paul e Aynet è veramente orgogliosa di questa conferenza e naturalmente speriamo di incontrarci e continuare a essere ispirati dalle tue idee e averti qui fisicamente di persona so che volevi venire ma non hai potuto ecco Rob ecco dai il mio indirizzo email a tutti coloro che vogliono mettersi in contatto oppure mandami un elenco delle vostre perché veramente voglio sapere quali sono le vostre idee grazie grazie Paul di questo grazie mille naturalmente mi unisco a Rob nel dire che veramente sarebbe un piacere averti qui di persone prossimo anno o gli anni futuri grazie mille un'ultima cosa a titolo non c'eri quando ho fatto l'introduzione ascoltandoti parlare sull'idea di questi campi profughi diciamo il fatto che magari ci sia un no show vuol dire che non ci vada nessuno pensavo al festival dell'economia ecco io sono appunto capo dell'instituto for new economic thinking e cosa ho pensato ecco se nessuno si presentasse al festival dell'economia dovremmo parlare con i psichiatri per sapere che cosa non funziona nel mondo vista veramente le menti brillanti che abbiamo qui se non venisse nessuno sarebbe terribile ci vorrebbe aiuto psichiatrico e sicuramente con grossi luminari effettivamente è importante avere persone come voi è veramente stato un piacere sentire parole così brillanti e anche vedere il sorriso io vengo qui ogni anno lavoriamo ogni anno insieme è veramente un piacere apprendere da voi grazie grazie Paul grazie Tito grazie a tutti voi sono connosso è roba veramente proprio quello che organizza veramente il festival grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti